siamo alla quarta gentleman con cavalli di categoria f 9 al dia ucla griff rainbow b picasso ll nori ringo york sm trini del circeo tourbillon spin in seconda till west tina foto sm rinuncia tourbillon spin prende un po lanciata invece trini del circeo vediamo un po parte piano ucla griff si sbrigano rainbow b ringo no scusate nori e trini del circeo all'esterno un bocco la prima curva con rainbow b in vantaggio trini a largo in corda nori poi ancora picasso ll quindi ucla griff siamo al termine la piegata con rainbow b al comando intanto trini del circeo riesce a sistemarsi in terza posizione allo steccato il passaggio ai primi 400 in 29 1 bagliato tiller us finendo squalificato il gruppo chiuso latina foto sm e tourbillon spin intanto si va verso il completamento dei primi 600 metri il primo muovere le acque picasso ll intanto davanti c'è rainbow b in corda nori a largo trini del circeo che va a rilevare la scia di picasso ll 45 4 per i primi 600 metri i cavalli che sono prossimi al completamento degli 800 con rainbow e picasso in coppia in avanti poi nori e trini ancora ucla griff tina foto sm ringo iore tourbillon il passaggio al primo chilometro in uno 15 e mezzo rainbow b allo steccato picasso che in calza poi nori e a largo trini del circeo spettatore interessatissimo mancano 400 metri alla conclusione si affaccia in terza tina foto sm al termine della piegata finale in vantaggio rainbow a largo picasso poi di dentro sempre nori a centro pista trini del circeo di dentro si butta nori arrivo concitatissimo nori che si profila in vantaggio poi trini del circeo nori trini che insegue ma sul palo è nori su trini terzo posto per tourbillon spin io 21 siamo nell'ordine del 15 e 6 vince nori nori che filtra all'interno di rainbow b in retta di arrivo e nel finale prende il sopravvento e trini del circeo finisce bene al centro pista ma può far veramente poco può far veramente poco perché sul palo nori lo precede il terzo per tourbillon spin poi quarta dovrebbe essere tina foto sm su rainbow b il tempo nell'ordine dell'uno dicevo 15 e mezzo 15 e 6 la quota per nori di 351 di maro palumbo e domenico di maro alla proprietà pasquale palumbo alla training domenico di maro ovviamente anche in sediolo